se ecco non abbiamo da un'altra parte aspetta possiamo prendere questi blocchi qua no non rispaccare con la spada cosa sono parte la consumis queste lana azzurra se non te ne fossi accorto non li consumare però ah spero spero facciamo una scala maggio l'ho perso il blocco perchè l'ho perso faccio io 1 ok puoi passare per quello vale 1 quindi basta fare così non abbiamo fatto le torce no ma non è che credo sia quello il problema guarda ma non c'è luce no ma non ti preoccupare credo che dopo ci sia la pelle guarda credo che dovremmo aprire dopo aspetta ma faccio un po' di torce no ehm finisce che vuol dire finisce finisce qua la galleria eh dove si va allora credo sia dall'altra parte andiamo di qua tra di qua ci servono blocchi ce lo io ai blocchi ma in carte cosa ci dovrebbe essere si due minecart no le rispinti dentro sono un pirla oh oh oddio quanti ne arrivano cos'è sta roba interrotta in che senso spingimi facciamo così ok aspetta no no oh uh casse aspetta non posso rompere ah ci hanno dato i planks ci hanno dato ma poi hai rotta la rotaia perchè uh guarda quanti abbiamo i birch wood planks aspetta legno ho legno io adesso abbiamo del legno si fantastico e poi finisce qui ah no cosa finisce qui e dove dobbiamo andare allora qui c'è un poso qui c'è un altro poso ma boh ma c'è la luce proprio zero eh allora aspetta vabbè non è che sia tanto utile comunque allora io vado di qua guarda vado di qua tu vai dall'altra parte no ci dividiamo eh tanto ci dividiamo questo è io ho paura ad andare da solo nel caso mi chiami vabbè oddio le lalve di penumbre presente ah tanto tu non hai armi ah si c'hai armi ahia ma ma quello delle caverne mi è capitata ma mi è capitata la mia skin dai c'avevo un secchio di là no l'ho lasciato nella cesta ma sta seguendo me i rami delle caverne porca miseria e doveva seguire me? eh certo un altro si ma io sto andando avanti ma io ho paura qua muoio ah no eh c'è mezzo cuore non per dire ah ma io ho paura sto andando avanti a oltranza mi sa che tu vuoi andare insieme eh eh ho detto io faccio un giugno non c'è cosa sono morto no la mandiamo insieme prendi il carrello e vieni di qua mi sto venendo vieni dalla mia parte io c'è troppo poco guarda su ma in carta a me thank you sempre un bimbo picchio che va sulle giostre esatto yeeeh ecco il bisogno delle caverne oh dio no dietro di me maledetto aspetta 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 non scappare stava scappando il coro aiuto non scappare non scappare vieni qua vieni qua vieni qua va di là passami il carrello dai che non per passare per coppa di una slabba adesso spona un altro però se ne spuono un altro se ne spuono un altro eccolo è spuonato da me no è spuonato anche da me passo ma porca andatevene via dai che tanto il pvp non c'è ok qua sembra interrompersi eh a che è servito questo viaggio sinceramente non lo so forse dobbiamo spaccare probabilmente non si deve o forse dovremmo avere un piccone o qualcosa vediamo no c'è il vuoto come c'è il vuoto ecco e adesso che cosa dobbiamo fare mi sa che la strada è la nave andiamo qua a destra a questo punto ah fammi mangiare un cuore e mezzo si c'è anche qua la pressure plate quella di ah se noi basta noi facciamo così guarda tasto destro eh vado mamma mia hackeriamo i sistemi qua c'è un cartello che c'è scritto tunnel under maintenance che così appena di manutenzione questo significa che dobbiamo andare di qua ah va fanculo eh quello supera tu ce l'hai del cibo? ultima pera boom bello però si scende andiamo in altezza diamanti praticamente eh magari cos'è quella roba in fondo zoom? aspetta se eh boom i tunnel proprio così sospesi eh vedo cose che si muovono dove dove? o sottoscino oh shit eh questa sarebbe una cosa da fare col minecart eh direi eeeh no sto facendo spawnare il mondo arrivo a piedi oh merda vabbè vai divertimento zero mamma mia no io mi sono divertito la prossima volta lo facciamo vedere la prossima volta lo facciamo vedere perchè è un bel percorso madonna io mi sto prendendo degli infarti ma è vero ti metto un po' di anti madonna ok qua destra o sinistra qual è che porta sempre bene? sinistra non so prima siamo andati a destra adesso andiamo a sinistra merda sponato addio lascialo stare epico stai qua vai stai qua oh ma guarda fa un danno sto schifo ha un fame ha un fame veramente finito un'altra volta non mi dire no ancora mi sembra che siamo bloccati di nuovo no ancora no altro minecart no c'è stato no manca non c'è cos'è questo è un'altra però qua qua c'è una porta qua c'è una porta emergenza è uscita di emergenza e sento un villager qua ho sentito un villager e aspetti maicard via si sento dei villager mazzala mano mazzala mano e apre sono molto male ma mi ha dato un ricidere test ah allora non è missione completata usa il minecart per raggiungere la prossima stazione oh c'è oddio ti faccio vedere le ceste guardati le ceste sento un ragno sento si si prendi armatura sento un ragno però questo ovviamente non scambia niente cest si abbiamo una nuova missione adesso prendiamo anche l'altra prendiamo anche l'altra armatura no aspetta lasciamo qua tutto quello che non ci serve tipo questo e questo che cosa è che non ci serve hai preso minecart hai preso il minecart si che l'ho preso perfetto oh guarda come si esmerga nell'inventario ah oddio ah si oddio questo è armon abbiamo missione disinfestatore guarda ok qua c'è un tunnel che continua e qua c'è un accesso no ma tu le armature prenditele se poi le rompiamo se poi le rompiamo oh 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 ti vengo ad aiutare madonna madonna l'infarto da dove è caduto quel bagaglio oddio gli infarti oddio ho trovato un secret gold nugget concludiamo con queste scalette esatto concludiamo con le scalette vediamo poi io ce ne ho due di ladder togliti 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 oh che cos'è oh altre cesto c'è oh che cosa è il metto di ferro boom tintura arancione spada d'oro cos'è sta spando questa oddio ho attivato una leva la mala mala magica la magica la magica la magica la magica la magica ma no abbassa la leva alza la leva ok aspetta che ho spaccato tutta la leva ok allora ragazzi quindi come primo episodio può finire qua speriamo che vi sia piaciuto aspetta 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 chi è che tiene la leva prima prima diciamo le cose importanti chi è che tiene il metto di ferro allora stai là dove la porta fermo va dietro mettiamo le my card lì allora adesso ci avviciniamo e vediamo da chi va chi va prendiamo il metto di ferro e aspetta devi contare i blocchi sono questo è un blocco questo è un blocco questo è uno due tre uno due tre scusa metti metti in mezzo ok 1 2 se non ce la fai allora a te sono tre ok 3 2 2 1 via ce l'hai te vai va bene tu hai quello di ferro dai che sono amico dei ragni delle perle che swag oddio sono bellissimo allora ragazzi con questo giochino del cazzo concludiamo speriamo che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace iscrivervi al mio e al suo canale e condividere il video lo dice perché ultimamente gli sto simpatico esatto condividere il video farlo vedere a tutti gli amici del mondo e niente cerchiamo di supportare al meglio la serie commentate e vedete se mi piace eh infatti cerchiamo di supportare la serie così da farla andare avanti e magari continuare a fare anche altre custom map se ce le consigliate voi stessi esatto eeeh e poi niente direi basta qua quindi ci rivediamo uuuu lana verde che è uno scatolone aspetta lui bello comunque ragazzi noi ci vediamo a un prossimo uuuu vabbè niente ci vediamo a un prossimo video bella